L'EVOLUZIONE DELL'ANIMA Traduzione di Madda Cermelli Amati Maestri, dovete espandere la vostra capacità di amore barra luce in modo che comprenda tutta la creazione amore per la natura, amore per gli animali, amore per l'umanità, amore per coloro che vedete come vostri nemici e, cosa più importante, amore per se stessi. Perché nell'essenza, tutta la creazione è una parte di voi e voi siete un aspetto del Creatore Supremo. L'espansione della coscienza divina si traduce in un'espansione del vostro campo aurico la radiosità della vostra luce. Nel corso del tempo, sempre più di voi svilupperanno una radiosità così potente ed espansiva che inizierà ad avere un effetto positivo sulle persone intorno a voi ed infine sulla Terra e su tutta l'umanità. Un numero alquanto elevato di anime evolute hanno già acquisito questa capacità. Tuttavia, dovete ricordare che non potete trasmettere quello che non avete rivendicato come vostro. Ricordate inoltre questo una parte importante della vostra missione sulla Terra è di intensificare la luce delle dimensioni inferiori. L'espansione della coscienza spirituale porta come risultato un'espansione del campo aurico, sia in intensità sia nella sfera di influenza. Un aspirante sul sentiero deve concentrarsi sull'addestramento sia del mondo esteriore sia di quello interiore. Dovete sforzarvi di diventare osservatori consapevoli di quello che sta succedendo intorno a voi. Allenare voi stessi a diventare totalmente impegnati con la consapevolezza focalizzata degli eventi fisici nella vita di ogni giorno è di vitale importanza, così come imparare ad elaborare i modelli di frequenza armoniosi e discordanti ai quali siete sottoposti. Dovete poi fare l'azione appropriata. Praticare la disciplina emotiva e mentale è anche molto importante mentre cercate di ridiventare maestri del sé. Non dovete voltare le spalle al mondo e alle esperienze della vita, ma affrontarle a testa alta. Tuttavia, è importante che impariate a vedere la vita da un punto di vista più elevato. Cercate di vedere il quadro più ampio e non restate intrappolati nei drammi della piccola storia. La logica è una funzione del corpo fisico-mentale e della vostra mente. Ricordate, la conoscenza o le teorie, che accettate come vostra verità devono essere sperimentate al fine di acquisire saggezza dalle informazioni divulgate. L'ispirazione è fornita dal sé superiore alla vostra sacra mente. Dovete imparare a prestare attenzione agli impulsi della vostra sacra mente e sacro cuore o all'input dell'aspetto prevalente del vostro sé superiore, perché è così che, gradualmente, imparerete a comunicare con gli esseri dei regni superiori e ad acquisire la saggezza cosmica. All'inizio, c'era la comunicazione con e tra le guide e di custodi spirituali di gruppi specializzati, tuttavia, nel corso del tempo questo dono o capacità è andata smarrita. Mano a mano, che gli esseri umani sprofondavano sempre di più nella coscienza materiale, gradualmente smisero di guardarsi dentro per il senso di connessione con i regni più elevati della coscienza. Le dimensioni inferiori terza e quarta non sono luminose e chiare. C'è uno strato di foschia o nebbia. Quelle anime che esistono in questo ambiente non se ne rendono conto, perché quello è il grado di consapevolezza a cui sono abituati. La realtà della terza barra quarta dimensione inferiore potrebbe essere paragonata all'esistenza all'interno di un labirinto oscuro in cui si è sempre alla ricerca del sentiero, che vi riporterà nella consapevolezza della luce pura. Questa nebbia inizia gradualmente a dissiparsi mentre vi spostate nei sottolivelli di mezzo della quarta dimensione ed il vostro mondo diventa più leggero e luminoso mano a mano, che attraversate ogni sottolivello superiore. Per ricevere le lezioni di luce, dovete elevare la vostra coscienza per sintonizzarvi almeno al quinto sottolivello della quarta dimensione. In questa esperienza subuniversale, ci sono sette sottolivelli per ogni dimensione, con il primo sottolivello, che è il più basso e denso ed il settimo sottolivello, che è il più elevato e raffinato. I maestri e le vostre guide sono desiderosi di incontrarvi a metà strada, tuttavia, soltanto le rare occasioni essi abbasseranno le loro frequenze nella densità della dualità estrema, perché è troppo disagevole per loro. L'ego è un aspetto del sé fisico, è stato progettato per aiutarvi a sviluppare nel tempo un senso di identità ed individualità. Una mente orientata verso l'esterno è guidata dall'ego. Il sé ego male indirizzato è stato determinante per creare l'illusorio sistema di credenze del piano materiale, una realtà basata su separazione, paura, egoismo e scarsità. Mano a mano, che espandete i vostri orizzonti mentali, iniziate ad abbattere le barriere della percezione autolimitante. L'espansione della mente comprende l'attivazione delle cellule dormienti dei livelli dimensionali superiori del cervello e l'attingere alla saggezza della vostra sacra mente. L'obbedienza cieca non è un requisito per l'illuminazione, perché vi state sforzando di diventare maestri del sé e di vivere le vostre verità personali come vi sono state rivelate e convalidate dal monitor del vostro cuore. L'umanità si trova nel bel mezzo di un risveglio spirituale e cellulare. Mentre vi spostate verso i modelli vibrazionali della quarta dimensione superiore e quinta inferiore, le vostre cellule, il corpo eterico e il campo aurico inizieranno un processo di purificazione accelerato. Questo processo faciliterà ed infine porterà al download di molti aspetti del vostro sé superiore al graduale recupero del vostro corpo di luce. Siate attenti e consapevoli in ogni momento, affinché il vostro obiettivo diventi ben determinato e chiaro. Svilupperete gradualmente un senso di fiducia e sicurezza, una conoscenza, che tutto va bene e che tale rimarrà. L'anima è un'estensione rifratta del vostro sé divino o presenza dell'Io Sono. L'anima usa la coscienza dell'emisfero destro dell'intuizione, che è connessa con la mente sacra superiore e la volontà spirituale. Una mente concentrata interiormente è guidata dal sé spirituale. L'umanità è in procinto di sviluppare i sensi sottili, raffinati che si sono offuscati a causa di un uso errato. Dovete andare oltre i sensi fisici rudimentali spesso distorti, mentre diligentemente cercate di sviluppare i sensi mentali superiori di intuizione e saggezza divina. È di vitale importanza che apprendiate a controllare la vostra natura emotiva e a mantenere i vostri pensieri saldi nella luce. Il vostro sé divino o presenza dell'Io Sono è la vostra intelligenza profonda, la vostra prima identità individualizzata all'interno di un'esperienza universale o subuniversale. In questa esperienza subuniversale, la presenza del vostro Io Sono ha creato i vostri primi dodici frammenti d'anima o estensione dell'anima. Da quel momento, la vostra essenza divina si è rifratta e separata innumerevoli volte. Adesso siete in procinto di reclamare tutti i molteplici aspetti del vostro sé divino in questo subuniverso in modo da poter progredire verso una versione più grande, più dinamica ed espansiva del vostro sé divino. Per aiutarvi a realizzare questo, la vostra cellula divina dal nucleo adamantino ed il vostro personale fiore della ruota creativa della vita contengono una piena misura dei dodici raggi della coscienza divina per questa esperienza subuniversale. Essi sono stati progettati affinché voi aveste sempre accesso alla vostra divinità a spettro completo per questa esperienza subuniversale. Il vostro compito è di attivare questi raggi, per incorporare le qualità ed attributi di Dio, che essi contengono e poi usare queste qualità ed attributi per il bene supremo. C'è ancora molta confusione su ciò che è l'anima, come funziona e dove risiede. È indispensabile, che voi comprendiate l'intricato processo di riconnettervi con i molti aspetti del vostro Sé superiore. È anche importante, che acquisiate chiarezza sugli insegnamenti più profondi che vi abbiamo dato in merito ai molteplici frammenti del Sé superiore. Ne avete molti, non uno soltanto ed il processo per incorporare questi molteplici aspetti di sé. Perciò, riteniamo che sia tempo per una spiegazione più avanzata di questo processo quanto mai è importante per l'evoluzione dell'anima voi portate nella vostra cellula divina dal nucleo di diamante un atomo semenza cristallino di memoria della realizzazione del Sé dal vostro punto di origine. Esso contiene una brevissima panoramica dei punti salienti di ogni vita, che avete vissuto, le principali lezioni, che avete appreso e di talenti, che avete perfezionato mentre viaggiavate attraverso questo universo. L'anima è un'estensione del vostro Sé divino o presenza dell'Io Sono. L'anima non è né spirito né materia. È un'atomo semenza di memoria, cristallino, fuoco sacro, un frammento della pura essenza di luce, che è programmato per registrare il vostro viaggio attraverso questa esperienza subuniversale. È il legame tra voi Dio nostro Padre barra Madre ed infine con il Creatore Supremo. Il vostro Sé spirituale personale, per questa vita, risiede nel vostro Sacro Cuore come un aspetto della vostra cellula divina dal nucleo adamantino. Ogni aspetto della frequenza più elevata della vostra anima ha i propri atomi semenza della memoria. Quando un dato aspetto prende dimora nella vostra stella dell'anima come vostra superanima, gradualmente trasmetterà le memorie del suo modello vibrazionale all'atomo semenza della memoria all'interno della vostra cellula divina dal nucleo adamantino ed anche al vostro Sé anima incarnato. Prima, attiverà i cristalli semenza della memoria nella vostra sacra mente. Mentre le vostre frequenze si espandono per ospitarli, i cristalli semenza della memoria tenuti di riserva nella vostra cellula divina dal nucleo di diamante saranno attivati. In questo modo, mentre incorporate tutti i vostri frammenti d'anima, alla fine acquisirete la capacità di accedere a tutta la saggezza, i talenti e le memorie ed esperienze positive della presenza del vostro Io sono per questo subuniverso. Il processo si ripete più e più volte man mano che attraversate i livelli multidimensionali dalla coscienza divina ed incorporate sempre più aspetti del vostro Sé divino. Voi foste programmati per cercare eternamente il sacro cuore della vostra essenza, la vostra cellula divina dal nucleo di diamante, ed il vostro atomo semenza cristallino dell'essenza del Creatore. Ad intervalli specificamente programmatici sono sempre stati piccoli gruppi di esseri unici, speciali che si incarnavano nelle varie razze e sotto razze e diffondevano nuove idee, instillavano nuove qualità ed attributi. Questi esseri avanzati trasmettevano con l'esempio la loro saggezza, la loro coscienza superiore e talenti speciali, e si fondevano anche fisicamente con membri selezionati dalla specie umana al fine di far progredire i codici del DNA dell'umanità. Voi state vivendo in uno di questi tempi speciali. La quarta dimensione potrebbe essere definita una realtà di transizione perché è da qui che iniziate a lasciare andare tutti i condizionamenti del passato. Il regno quadredimensionale è di natura più emotiva, e perciò il cuore e la natura dei sentimenti sono l'obiettivo principale. Gli antichi chiamavano la quarta dimensione il regno di Maya o illusione. La coscienza collettiva di massa dell'umanità colma i tre livelli inferiori della quarta dimensione, ed è qui che gran parte degli esseri umani esistono mentalmente fino a quando gradualmente iniziano a guardarsi dentro e ad ascoltare gli ammiccamenti del loro sé spirituale. Il corpo dei desideri dell'ego è il maestro manipolatore di questo regno, e costantemente sollecita la persona a cercare più soddisfazione e felicità attraverso la sensazione di mezzi esterni di gratificazione. Iniziate ad attingere al vostro potenziale energetico interiore mano a mano, che vi spostate verso i sub-livelli superiori della quarta dimensione. La materia diventa più fluida, e perciò diventa più facile manifestare quello che desiderate. Ecco perché dovete imparare ad essere più risoluti e a concentrarvi sui vostri pensieri con intenzione chiara. Una mente disciplinata mette insieme le sequenze di pensiero nel giusto ordine. È di vitale importanza che comprendiate che i pensieri disordinati sono dannosi al vostro progresso. Vivere nel momento presente nel momento di adesso è una componente importante per raggiungere la maestria del sé. Si richiede lo sforzo mentale al fine di attraversare con successo il sentiero dell'illuminazione. A poco a poco, buona parte dei vostri ricordi degli eventi passati inizierà ad affievolirsi man mano che uscite fuori dal regno del cervello istintivo barra mente verso il regno della mente superiore. Tratti importanti di un maestro del sé sono le capacità d'osservazione focalizzate e l'innoquità di pensiero, parola ed azione. Quali aspiranti sul sentiero, verità cosmiche sempre più grandi vi saranno rivelate. Tuttavia, dovreste essere consapevoli che i principi minori di saggezza e verità senza tempo saranno costantemente espansi per incorporare regole, leggi e verità uniche del successivo livello di esistenza nel ciclo senza fine di ascensione nella coscienza. Dovete mantenere il canale di comunicazione aperto tra l'anima ed il cervello tramite la mente. Questo avvia il lento processo di riattivazione della ghiandola pineale e l'apertura del portale alla sacra mente, che si trova nella parte posteriore del cervello, vicino alla sommità del capo. La mente sacra è in risonanza con i sottolivelli della quarta dimensione superiore così come con tutti i livelli della quinta e sesta dimensione, con una piccola parte delle frequenze barragati della settima dimensione, che sono riservati ad un uso futuro quando acquisirete la capacità di attraversare i livelli più alti possibili per l'umanità in questa esperienza subuniversale. Tuttavia, dovete aumentare gradualmente i vostri modelli vibrazionali per poter attingere a questo deposito di saggezza cosmica. La sacra mente ed il sacro cuore non sono composti dalla sostanza del mondo materiale, essi sono costituiti da sostanza di luce leggera, eterea che non può essere rilevata dagli strumenti scientifici. Tuttavia, sono più reali di qualsiasi parte del vostro corpo fisico. Perché una volta che ristabilite la connessione tra la vostra sacra mente, il vostro sacro cuore e la vostra cellula divina dal nucleo adamantino, ci sarà un flusso costante di particelle adamantine, oltre ad informazioni avanzate, pertinenti provenienti dai vostri atomi semenza della memoria ed anche dalla vostra superanima barra se superiore. Ecco perché è così importante, che riconnettiate la triade della coscienza divina la sacra mente, il sacro cuore e tutti gli aspetti della vostra cellula divina dal nucleo adamantino. Mentre rispostate verso i modelli vibratori della quinta dimensione, le vostre cellule, corpo eterico e il campo aurico inizieranno un processo di purificazione accelerato. La tranquillità inizia al livello inferiore della quinta dimensione e si rafforza in modo esponenziale. Acquisire potere divino e saggezza richiede che vi muoviate oltre i potenti modelli di credenza della coscienza collettiva dell'umanità verso la sintonia con la vostra coscienza cosmica tramite i molti aspetti del vostro se superiore. Potersi spostare con successo sul sentiero dell'illuminazione richiede stabilità emotiva e sforzo mentale. C'è una legge di equilibrio, che vale per la quinta dimensione ed oltre. In breve, la sesta dimensione è la dimensione dell'immortalità e di una coscienza spirituale enormemente espansa mentre vi riconnettete con i livelli superiori del potenziale della vostra anima in questo subuniverso. La settima dimensione è il limite evolutivo finale per l'umanità in questa esperienza subuniversale. Il primo sottolivello il più basso in frequenza dell'ottava dimensione è il portale dell'infinito, a cui sarete in grado di attingere quando acquisirete l'abilità di integrare frequenze sempre più elevate. Un effetto di gocciolamento ha avuto inizio mentre acquisite l'abilità di accedere ad ogni livello di frequenza superiore, per mezzo del quale minuscole quantità di luce divina più raffinata iniziano a fluire nella vostra colonna di luce personale, aggiungendo così luce al vostro campo aurico e alla vibrazione della vostra canzone spirituale. Ricordate, miei valorosi, voi state vivendo nel bel mezzo dell'eternità i messaggi di saggezza, che vi portiamo non sono per stabilire altre regole o creare un nuovo dogma. La nostra intenzione è di infiammare i vostri cuori con l'amore e darvi un'idea del glorioso futuro davanti a voi. Io vi guiderò, dirigerò, ispirerò e proteggerò ed irradierò l'amore eterno di Dio nostro Padre barra Madre verso ognuno di voi. Io sono l'Arcangelo Michele. Daronna. Carissimi amici, mentre ci spostiamo verso le energie dinamiche del 2012, è più importante che mai che rimaniamo centrati nel nostro sacro cuore e concentrati sul massimo bene per tutti. Ci viene offerta una magnifica opportunità di rivendicare la nostra maestria personale e contribuire a creare un mondo d'amore, pace, armonia ed abbondanza per tutti. Mi sento davvero fortunata per essere stata scelta per portarvi questi incredibili insegnamenti di saggezza dal nostro adorato Arcangelo Michele. Vorrei poter essere con tutti voi personalmente, tuttavia, sarò sempre con voi nel nostro posto speciale nella piramide dei servitori del mondo. Ringrazio tutti voi per le vostre generose donazioni e di pensieri affettuosi, che mi avete inviato lo scorso anno. Possa il 2012 essere l'anno in cui i nostri sogni e la nostra gloriosa visione del futuro si avvera. Amore eterno e benedizioni, carissimi. La vostra sorella spirituale.